Come on! Hola io sono Marcus Krohn e... Brrrr ho sbagliato arma! Ehm scusate Zish Qual è quello che lancia il fottutissimo Cannone blocco? Eccolo qua! Ok hola io sono Marcus Krohn E benvenuti su Eyes of Spade La ormai è diventata La serie in cui gli iscritti mi sfidano ad usare soltanto un tipo d'arma E questa volta abbiamo scelto Lo spara cannolicchi di ghiaccio! Yeah! Ma soprattutto questi qui possono uccidere qualcosa o qualcuno? Lo scopriremo solo vivendo ondolo 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 Andiamo a cercare qualche stronzo Mmm Sento sparlare anzi sento calpestare Intanto si chiama unola OMG only sniper into server Beh no Io non sono Uno sniperone Ma sono tutti sniper No sono quei quattro stronzi Che gusto ci sarà? Ma io di che colore sono? Sono ble Sono ble Dove stanno i verdi? Ehi Qui Verde 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 Ma se io faccio così no? Creo un blocco Oh 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 Che cazzo è stato a fa' State calmissimi Chi era? Dov'era? Eccolo Ma mori Mori Devi morì Prendi adesso sto cubone Ma se mi uccide qualcuno con sto coso O mi avete tipo coglionato Tuschi 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 No 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 Voglio continuare Vediamo se posso uccidere Ma davvero non posso ucciderlo? Ci rimarrei male Non ci dovrebbe essere i coiotes E non i lupis Comunque Ah ma è vero Io posso Posso volare Posso anche cadere E farmi molto male Laggiù c'è uno sniperone Quindi di qua ci dovrebbe essere qualche stronzone Aio Aio Chi è che mi sta sparando la pistoletta? Ma prendi l'estate kipirina Te la devi da prende Oh L'ho ucciso Prima kill Prima kill Vai ciccio Come sei una bomba Porco dischi Ma tipo c'hai i pezzi C'hai le munizioni C'hai la 2000 Posso farne Molto a meno Ma io gli vorrei dare fastidio a sto tizio Vediamo un po' se posso dargli fastidio Scusa Sono uno strozzo Ah ah Ma provo a salire Ah 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 Aio 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 Che cazzo è che mi spara? Ah strozzo Chi è che mi stava sparando? Dov'era? Vabbè Stiamo qua sopra Ma dai Ma da lì è facile camperare No ragazzi Non mi sembra giusto Prendiamo in mano il nostro piccone E faremo così Poi faremo così Poi faremo così Poi faremo così Oh strunz Oh santa pace Oh santa pace Take her down No vabbè ma dai Stiamo troppo in svantaggio E questo è il momento in cui infierire cazzo Quel tizio si è disconnesso Chissà ha rosicato Allora continuiamo a La nostra missione Siamo a un kill Con lo spara bolle Lo spara cazzetti di marzapane di ghiaccio E l'unica cosa è che ci muoviamo davvero molto molto lenti E' quasi un Tipo una noia mortale Vabbè ma noi 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 Ci dobbiamo preparare emotivamente Ragazzotti No dai Me l'ha ucciso qualcun altro Che schifoso Infa Più 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 Ah 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 Due Grandissimo Vediamo un po' se ne spona qualcuno di un altro No comunque sto tizio è una merda E mi sta davvero antipatico Quindi farò così Beh non è cavolato molto Devo essere sincero eh Vediamo se lo becco Lui si è attaccato qui Perfetto Ningù problema Guarda che schifoso Te sta bene Perché sei Ma chi è oh Oh dove Chi Quando Perché Ah 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 Paurissima Ok Ha capito che era sputtanata E che volevo farlo crollare Ce n'è un altro Qui Micio 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 Maggiù è esploso un tizio Dovrei andare a curarmi Mi curerò Ok 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 Fantastico Wow Biu 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 Avanti Mamma mia Te romper book con i cubetti di ghiaccio Porco giuda E dai E mori E mori No 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 Cazzo Cazzo Johnny Green Asd Secondo me i blu mi vorrebbero cacciare Ok Ok Seri ragazzi Bisogna essere seri in questi giochi Quindi prendiamo il nostro spara brrrl di sapone E Andiamo di qua Mamma mia quanto cammino lento Fio mio Ovvero senso portatile Oddio Casca una cassa Spizziamo la situation Lì c'è gente che sta facendo spawn killer O mi sbaglio Ma qua dentro c'è una cavernola Molto interessante Andiamo di qua Andiamo di qua Saliamo le schele C'è chi scende e c'è chi scale Oh qui era dove ho ucciso Stavo provando a uccidere il tizio di prima Oh davvero molta paura No dai Non li spunchillate Me ne serve qualcuno Mamma mia Rambo 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 No Bastardissimi Prendiamoci un po' di vita No dai Siete delle merde E' ben andato? E vabbè Allora faccio la merda pure io Guarda come tenta di scappare No Basta 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 Ma te levi? Andate via Ma perché prendo dei danni? Da chi mi prendo? Voglio darvi fastidio Ok Voglio darvi fastidio Ti levi? Ti levi? Fastidiosissimo essere di umano? Oh mio dio Sto facendo di questo campo Ma muori Mori Mori No non l'uccido mai Poracce li stai mandando via Deficienti Mi dispiace caro Sei la vittima sacrificale No Dove è finito? Eccolo Me lo fate uccidere a me per favore Perché non muore? Oh mio dio Invincible Lo sto facendo salire Sempre di più Ok Vieni qua Johnny Johnny Where are you? Oh porca paletta Ho tipo lisciato la mina E non ho visto lui Va bene comunque Johnny ce la sta facendo È scappato Dallo sponchillaggio E adesso Guarda come si attrezza Sto luridone E adesso riceverà Una morte Gelata Zon 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 Noto In giro per la mappa Dei cubi di ghiaccio Ma non riesco a capire proprio Oh oh Qualcosa è esploso Sono molto spiacente Aio Che succede? Chi è oh? Oh dove è? Chi? Dove? Quando? Perché? Ciccio Dove sei? Johnny Creek Ma dove cazzo? Johnny che sta a fare? Tutto bene? Johnny Qui Bau bau Micio Micio Ma che cacchio Ma guarda sto lurido No aspetta Oh ma te devi levare Ce l'ho verso io Mi sto ammazzando Mi sto ammazzando Ecco qua Adesso ti ho aiutato Ok a posto Vai tranquillo Non ti preoccupare Non ti preoccupare Ci penso io Guarda davvero Ci penso io Ok perfetto Stai calmo Non sparare Non sparare Nessuno si farà male Rimanga calmo Ok Ah c'è entrata Altra gente Perfetto Speriamo che La situazione Sia diversa Da prima Dalla precedente Uno si è disconnesso Forse l'ho tipo Fatto rosicare Che palle Sti coyotes Sei proprio un coyotes Ok Molto bene Scusatemi Per questo Vi canterò Una canzone Basta Siamo seri Signori e signori Benvenuti Nella Come cazzo Si può definire Nella partita Di sfida Marco Scroon Versus Iscritti In cui Voi soltanto Potete decidere L'arma Del combattimento E possiamo Notare a Marco Scroon Che Passa Le linee nemiche Vede Uno stronzone Si gira Lo stronzone Vede lui Attenzione Sfida il cardiopalma Ce la faranno Ce la farà Marco Scroon Ce la farà Ce la fa Marco Scroon Uccide Dannex Con Il La macchina del ghiaccio La chiameremo Macchina del ghiaccio Ok Ok Eccone un altro Ecco Dannex Di nuovo No Dannex si vendica Su Marco Scroon Comunque Ho perso il conto Di quante kill Sto Tipo due Tre Boh Vabbè fatemelo sapere Nei commenti Come al solito Mancano soltanto Due minuti E noi dobbiamo Approfondire Il nostro rapporto Con la gelateria Nel Nel gioco di Ace of Spades Quindi Quindi Oh Quello era Un siluro Che fa malissimo No 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 Quell'altro Faceva malissimo E io adesso Vado dall'altro Mamma mia Regà Ho saltato Ho saltato Il cazzo Di suppostone Ma chi è Oh 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 Sto luridozzo Guardate che bello Scontro Hanno preso le stecche Va bene Va benissimo Va benissimo Io non capisco perché la mia squadra Che mi vede usare soltanto Oh mio dio Non mi posso muovere Ah ok Che mi vede usare soltanto Il frullatore chi è che mi spara da lontano bello de casa t'ho visto solo io so cazzi tua aio 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 fai malissimo fai malissimo fai malissimo fai malissimo fai malissimo oh t'ho preso mille volte se non mori con tutti sti cubetti di ghiaccio ti rompe il book eh a parte vorrei rompere il book con i cubetti di ghiaccio quindi no cazzo me l'ha levato me l'ha levato andiamoci a curare oh oh ho visto un cecchino dietro di me ok a posto cioè oddio a posto il cecchino può sempre sempre ti romperti il book allora mancherò 47 secondi e non credo ce la farò no 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 porca cazzozza ladra eccolo 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 l'ha ucciso marcus cron l'ha ucciso mamma mia te tiro una tachipirina piena di ghiaccio e mi sto tipo a ammazzare però sono morto ragazzotti lo scontro è finito abbiamo non so totalizzato quante kill con lo spara cannolicchi no lo spara ghiaccioli al limone ricordate il quel ghiacciolo al limone con uuuuuh con la stecca di liquinzia dentro no perché siete troppo giovani il lyuk il lyuk davvero ma pensa che che caso fortuito che ci offre la vita eeeh è finita qui spariamo un po' di cubi al cielo sperando che non sia ghiaccio secco e noi ci vediamo nella prossima puntata di Ace of Spade ciao a tutti da marcus cron oh yeah siamo dei pro ciao a tutti i buoni ciao a tutti i buoni